Ciao a tutti Tart, amici di Tart YouTube TV, io sono Aldi Stein e oggi con noi abbiamo due ospiti per questo video speciale, abbiamo Mary B, ciao Mary B, e sotto abbiamo Bebe, Bebe, in descrizione vi lascerò i link dei loro canali, seguite, passate anche dei loro canali, allora se iniziamo a loro per giocare a Trivial Crack, come vedete dalla copertina che si intravede in mezzo a noi qua, non giocherò con il telefono collegato, voi vedrete a schermo quello che andiamo a fare, allora partiamo, gioca adesso, partirà Mary B, intanto per iniziare giriamo la ruota, per scoprire la prima domanda, uh geografia, come sei messa in geografia Mary B, eh un tonto, vediamo, c'è Tito incazzato qui, vediamo cosa ci dice, gioca, no non ho bisogno di raggiungere, quale di questi paesi non ha sbocco sul mar Mediterraneo? Svezia, Spagna, Francia, Italia, quindi sono tutti da una parte l'una dall'altra, dai, penso alla cartina, che hai detto? Svezia, ah, è raggosto, scusami, non lo sento più io, ecco, giusto, ce l'ho fatta rispondere, continua, Ci diamo di nuovo la ruota, Sport, con Bonzo, Cosa vuol dire dribbling nel gerico calcistico, anche dopo di calcio te ne intendi? Bel gesto atletico, entrare in tackle sull'avversario, colpire la palla al volo, superare l'avversario con la palla al piede, Ok, continuiamo, è forte Medi, occhio Bebe che è forte Medi, gira la ruota, gira la ruota, Ancora geografia? Perché mi hanno mandato i messaggi su whatsapp adesso? Dove si trova l'isola di Salina? Salina, non ci vedo più, Sardegna, Puglia, Croazia, Sicilia? Croazia! Lei deve rispondere, che vuoi tu? No! Dai! Oh, rispondi! Ah, merda! Eh! No, tu hai detto merda! Eh, io non avevo capito anch'io! Non avete capito, sta giocando lì, quando sbaglia lì tocca a te! Ah! Ah! Eh, adesso ho sbagliato, tocca a te! A chi? Ah, Bebe! Au! Intanto che mi c'è sta fortuna pubblicità! Ci fottiamo anche il giro jolly, poi rivediamo a Bebe il giro jolly, un diamante! Un diamante! Grazie, grazie, grazie! Nuova partita! scienza! Nuova domanda di scienza! Bebe, 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 bebe! 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 Qual è? Dico io, qual è il mammifero più grande? balena elefante lamantino non ce n'è uno più grosso risposta esatta continuo il capello giriamo la ruota che chiamo la prossima domanda scienza di nuovo amore di scienza chi trasporta il messaggio per formare le proteine rna rna ribosomi aminoacidi rna messaggero di bombosimale nooo era il messaggio messaggero però voglio sapere i punti qua per capire chi ha vinto adesso tocca a me e finalmente gira la ruota tocca a me non rispondite voi ma tocca a me sport andiamo bene vediamo che figura facciamo che forma ha la palla da polo e tonda un disco vale nel polo non si usa la palla la palla di pelle di apollo che fece la palla no con un'altra cosa è tonda la palla da pelle piccolina e tonda continua ho trovato il jolly ho trovato il jolly posso scendermi il personaggio e mi scelgo mi scelgo mi scelgo il cavaliera secondo la tradizione quanti furono i re di roma sette cinque nove sei vabbè sette i famosi sette re di roma gira la ruota gira la ruota gira la ruota sport non ho bisogno di aiuto grazie quale numero di maglia ha indossato buffone per mongiare 2006 il portiere che madre deve indossare uno e non parlate di mondiali vero per favore non siamo usciti non ci siamo quest'anno di mondiali storia il mio mio ector quale creatura mitologica è più grande chimera cerbero ciclope arpia chimera cerbero credo cerbero nooo la ciclope lo stavo dicendo lo stavo dicendo ciclope nooo la 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 ciclope guarda i loro canali che vi lascio in descrizione anche se quello di bebe momentaneamente di ristrutturazione ma tornerà tornerà devido torna a casa aspetta ti tornerà che è altrimenti mi scrivono messaggi mentre sto qui bene e vi do la rivederci al prossimo video ciao che youtuber sei vediamo che youtuber sono allora chi lo vuole fare per prima dai bebe prima hai iniziato meri ma inizia tu bebe no no ha iniziato bebe meri si meri per navigare su internet tu si prevalentemente mente ma vabbè te lo chiedo anche se lo so computer tablet smartphone computer tu vai su internet col computer ah no da quando io con il telefono e bebe arriva ti dire le fsd allora telefono quale tra questi penso di sapere anche questo il tuo social preferito facebook instagram snapchat instagram ah vero non me l'aspettavo su youtube ti piacerebbe fare o ti piace fare fare tutorial fare video comici parlare di videogame video comici e bebe comicanata ma saprei quale quale tra i primi youtuber diventati famosi non so se li conoscete non so se li conoscete ti piace di più will wash clio make up o i pantellas mini minibu non lo so il secondo io mi capo normale quella che parla di trucchi su youtube youtube l'oggetto che avresti mentre fai video l'oggetto che avresti sempre con te sono il joypad i pupazzi peluche o la cuffia che io non ho adesso la cuffia la cuffia su youtube ti piace guardare le challenge devo fare qualche challenge insieme a proposito canzoni o tutorial eeeh canzoni un cantante a caso no? che so vediamo viaggi a donarci eeeh quello si ne ho detto uno a capo proprio forever la quest il tuo colore preferito è il fufufia fuxia il rosso o il nero rosso un amore che eeeh rosso però anche il mio colore è nero eeeh perché mi viene solo di nero eh vabbè però hai detto rosso la prima cosa che cosa rosso un amore che non posso rosso è relativo rosso è relativo il tuo rosso è relativo quante volte al giorno vai al cia vai su youtube non tutti i giorni almeno una volta al giorno più volte al giorno dipende da quello che hai mangiato meno di una volta al giorno sto scaricando una batteria meno di una volta al giorno beh almeno una volta al giorno cosa fai quando esce un nuovo video del tuo youtuber preferito devo essere dei primi a vederlo devo essere dei primi a commentarlo ok appena posso lo guardo no lo vado a vedere per primo di abistar grazie amore un tesoro aspettate un attimo che se no si spegne il fuoco sta succedendo di tutto in questo video un bel grande diretta un bel grande diretta ma gli hanno fatto più male abistarne è un grande tutto in diretta io non c'ho la gravetta sulla madre ci va un po' un po' sto tenendo allora allora il tuo youtuber preferito metto un video che non ti piace che fai? lo guardo ma non lo condivido lascio ugualmente un like metto un non mi piace lascio sempre un like ah grazie prego prego tra i seguenti film quale potrebbe essere il tuo preferito Game Therapy a cui hanno partecipato Fabi J, Federico Capis, Donato delle Carni e Zoda Social Dream a cui parteciperanno Fabi J, Mates e la Sabri Gamer che poi vedrò Natale al Sud in cui recitano Howard, Stensma e Giulia Penna conosco solo Giulia Penna di questo ma li hai visti questi tre film tu? no tu hai visto solo Natale al Sud sono sincera hai visto solo Natale al Sud almeno quella vabbè un pezzo pezzo, tu a pezzi diventi film eh sì la fine è sempre diventa la fine questa è bella il tuo motto sul tuo canale YouTube potrebbe essere quando ti iscriverai non tornerai mai più indietro la risata è la miglior medicina contro tutti i maghi se cercate fuori di testa siete nel posto giusto la mia risata è una maicilla il tuo sta fuori la di giarella finito mostri i risultati la Sabri la Sabri Gamer una delle mie preferite youtuber donne wow sei la mitica la Sabri Gamer spontanea allegra talentuosa indobbiamente bella e con due occhi niente male spicchi per la tua versatilità che in pochi anni ti hanno resa molto popolare nel mondo di YouTube con gli occhi azzoni che c'ha madonna dopo il successo come modella perché era una modella sei riuscito a conquistare ulteriori fond anche grazie alla tua passione per i videogiochi nel tuo caso e condividi anche con lo YouTuber anima nonché il tuo fidanzato no ed è proprio questo mix combinato con mi facita e simpatia rappresentare l'arma vincente che ti rende davvero unica per questo molto apprezzata grazie al tuo talento il tuo canale su YouTube vanta oltre un milione di iscritti e circa 200 milioni di visualizzazioni verrà buono per te per gli oltre 800 video pubblicati continua così in breve tempo sarà in vetta le classifiche vuoi sapere di più dai un'occhiata al canale di la Sabri se non la conoscesi la Sabri Gamer è una ragazza che fa questi video di videogiochi soprattutto di videogiochi quelle per le ragazze giochi di Barbie dei Sims è molto brava molto empatica è molto dolce e ha molte fan bambine soprattutto in effetti proprio per questi infatti quando fa gli incontri fa anche dei video dei vlog degli incontri che fa con le sue fan con i suoi fan e si vedono proprio questa ragazzina che impazzescono quando la vedono quasi come se fosse una babysitter è dolcese viene fidanzata con Anima che è un altro youtuber il vero nome è Sascha che fa parte dell'attrio si chiamano i gruppi su youtube i mates che sono tra i più famosi del youtube praticamente le famose anche per quello fai video con Fabi J che è il più grande youtuber in l'Italia quello che ha più iscritti ma adesso passiamo a Bebe Bebe che si è addormentata ti sei Bebe? beh ah meno male non si è addormentata vediamo tu che sei allora per navigare anche questa la so per navigare su internet usi prevalentemente il computer tablet ho letto lo smartphone smartphone ce la sapevo e so pure questa quale tra questi il tuo social preferito? facebook instagram snapchat facebook snapchat neanche ci siamo su youtube ti piace fare tutorial fare video comici parlare di videogame il primo eh qualcuno ne hai fatto infatti procedi anche a te quale tra i primi youtuber diventati famosi ti piacere più? willwush willwush o willwush non è un'altra cosa clio make up o i pantellas i pantellas sono arrivati a colorato i pantellas ora fanno televisione qui su youtube l'oggetto che avresti sempre con te quando fai i video il gamepad i peluche o la cuffia? la cuffia come hai visto con le cuffie fare i video a te veramente su youtube ti piace guardare le challenge le canzoni o i tutorial? i tutorial eh sapevo immaginavo quale tra questi è il tuo colore preferito? il fuffia il rosso o il nero? nero wow la black lady quante volte al giorno vai su youtube? non tutti i giorni almeno una volta al giorno più volte al giorno più volte al giorno eh sì infatti perché a volte mi dici che sai cosa fai quando esce un nuovo video il tuo youtuber preferito? devo essere tra i primi a vederlo? devo essere mia a commentarlo? ok appena posso la commenta allora il tuo youtuber preferito ma di smettere di mandare le foto che mi interrompi il tuo youtuber preferito mette un video che non ti piace che fai? lo guardo ma non lo condivido lascio ugualmente un like metto un non mi piace no ma metto sempre un like se lo stesso e like sia se tu metti like a prescindere come va di nuovo fai i seguenti film quale potrebbe essere il tuo preferito? game therapy social dream un natale al sud il motto sul tuo canale youtube potrebbe essere quando ti iscriverai non tornerai mai più indietro oppure la risata è la miglior medicina contro gli ultimali se cercate cose fuori di testa siete nel posto giusto? secondo me anche il primo e continuiamo con i mates tu sei stepney wow sei il mitico stepney assieme ai mates sei pure maschio ovvero sorri vegas e anima il trio con surreal power vegas sei riuscito a spopolare entrando nel top questo è uno che fa fa molti gameplay di anni con te non ha molto a che fare è uno che fa più molto di gameplay molto su minecraft eeeh a fifa quando mai pochè l'ho schiuti faceva prima ed è il miglior amico praticamente del ragazzo della sabri gamer quella di prima ah buona saperti comunque sono sono tutti youtuber che vi consiglio perchè fanno scompisciare veramente eeeh dove sta a fare qui io ho una cosa a te perchè sono curiosa di sapere cosa si ci dirà ok paro per navigare su internet usi prevalentemente computer, tablet e smartphone io li uso un po' tutti a tre però penso di più di più lo smartphone effettivamente qual è da questo il tuo social preferito? facebook vorrebbe su youtube ti piacerebbe videogame, tutorial, comici eeeh mmmm scusa bene quale tra i primi youtuber a diventare i mamusi ti piace di più? mmmm i pantellas anche a me wilbo ce lo porto sullo stomaco mio make up si è bella ma fa video di trucchi icchi quindi a me non me ne fotte niente i pantellas mi fanno ridere troppo cioè c'è la nonna di venitevi video con la nonna di pantellas? una cosa spettacolare quella signora su youtube l'oggetto che avrei sempre con te sarebbe il gaypad un momento i pelusci o le cuffie? i pelusci dei miei video non ne vedete mai gli ho massato da un'altra parte direi le cuffie anche se non ne chiedo tanto su youtube ti piace guardare challenge canzoni tutorial e challenge mi fanno ridere alcune alcune però certo sono stupidi però alcune fanno ridere quale tra questi è il tuo colore preferito? in realtà il mio sarebbe il blu però non c'è metto il nero quante volte al giorno vai su youtube? non è più volte al giorno cosa fai quando esce un nuovo video il tuo youtuber preferito? vuoi essere del primo a vedere? appena posto la guardo effettivamente anche perché sarebbe fa' vj che lui li pubblica le tre le pomeriggio e li guardo la notte luce e mezza mezza notte prima di dormire il tuo youtube preferito metto un video che non ti piace che fai? lo guardo ma non lo condivido tra i seguenti film quale vorrebbe essere preferito? allora io che intera vi ho visto mi è piaciuto bella la trama però un po' scarla l'ho trovata sarebbe stato bello se fosse durato di più piacerebbe vedere un seguito ecco perchè hanno lasciato molti punti interrogativi che mi sarebbe fossero scoperti social dream ancora non è uscito quindi con un attacchio faccio addio perchè sopra i miei mates e la sabi gamer eh però siccome ci sono molti dei miei youtuber preferiti quindi social dream ma se l'assurdo non mi ricordi neanche se l'ho visto credo di sì il motto sul tuo canale youtube dovrebbe essere quando li iscriverai un canale nel mio video se cercate cose fuori di testa siete nel posto giusto mostra i risultati passiamo ad un'altra crew agli illuminati il vostro caro Dexter sei uno youtuber davvero originale per questo sei riuscito a fare il boom di visualizzazioni iscritti al tuo canale i video che realizzi sono incentrati sul gameplay come incentrati ma non un gameplay qualunque il tuo è un incendio infatti è una comicità che ti contraddistingue dagli altri colleghi che trattano la stagione di video grazie all'impegno e alla simpatia e al talento sei riuscito a diventare dei gamer più celebritati sono oltre 2 milioni e mezzo di iscritti è vecchio il test è arrivato a 3 milioni adesso circa ho visto sotto una cosa interessante tutti i test dell'argomento se fossi adesso potrebbe essere divertente dai lo facciamo la prossima volta non sono neanche quanto durato il video però va bene ok allora come sono finito io aspetta sono sparito io ah no io non esco qua hai ragione esco in registrazione per oggi amici è tutto saluto i miei ospiti la bellissima e affascinante Bebe Bebe e la dolcissima MediBe ciao li invito per un nuovo video per nuove collaborazioni magari anche sui loro canali vi invito sempre a iscrivermi sui miei social loro l'hanno fatto fatelo anche voi e mettete un like e mettete un like a a se vi è piaciuto il video mettete un like come ha detto lei se non l'hai ancora se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e accende la campanellina e accende la campanellina brava e condividete 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 vale sempre iscritto ricambio se non mi iscrivete mi iscrivetevi al vostro canale così cresciamo insieme e che altro dire tutto qui ci rivediamo al prossimo video ah iscrivetevi anche ai loro canali che vi lascio nell'info box ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao